Il famoso live in Kansas City, restaurato dal grande J.P.R. Il famoso live in Kansas City, restaurato dal J.P.R. Il famoso live in Kansas City, restaurato dal J.P.R. Il famoso live in Kansas City, restaurato dal J.P.R. Il ancestry of Los Angeles City City, restaurato dal J.P.R. Il 13 algoonder, quin estro France en el назад Oh, baby Oh, honey, what's getting round with you? Yeah, I'm going to pull off my mom And down the road I go Yeah, yeah, yeah Oh, baby I'm going to pull you around Oh, my, my Honey, honey, what's getting on? Yeah, I'm going to pull you down Oh, my, my I'm going to pull you down I'll give you the dollar of my money And you put on top You come back in the air when you call me Oh, my Tell me you'll land right now, boy I'm going to cut them off And down the road I go Hey I'm going to pull you down 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Beh, mi ha fatto un grosso complimento, ma io non sono così bravo. Sono bello. Allora, cazzo. L'importante è comunicare. Grazie. Accetto di cuore, grazie. Volevo ringraziare i fratelli che mi hanno appunto invitato questa sera qui. E come vedete, purtroppo, c'è un tipo di musica, non è che funziona tanto bene in Italia. La gente corre a vedere altre cose. Mi dispiace, soprattutto per voi. Noi siamo venuti comunque con il massimo della passione e della voglia, ovviamente come si fa sempre. E le ringrazio di nuovo. Facciamo un applauso. Grazie mille. Grazie. È un bravo tempo di chione, speriamo. Il nostro fonico, ovviamente. Bravo! Grazie. Tra ben di Gabriele Scarlatti che stasera ha aperto per noi. Grazie. E poi, qui c'è Picca che ha cd. Sì, è anche delle bottiglie d'olio. Ma chiederete come mai delle bottiglie d'olio? Beh, anch'io c'ho i miei sostenitori, i miei fans. Tra questi, l'unificio più presigioso che c'è nella nostra provincia, Redoro, che mi ha dedicato un olio. E me l'ha detto, beh, ecco, questo qua, così siccome tu mangi la pasta con l'olio e basta. Questa sera quando sono arrivato qua, la ragazza mi ha detto, per lei abbiamo preparato la pasta in bianco con l'olio d'oliva. Perché l'hanno visto nell'intervista di Beppe Grillo. Grazie anche per questo. E ci sono i cimili e delle varie varie. Di nuovo un prato per le nostre meravigliose fantastiche. Grazie, grazie. Renato, a passo. Enrico Macaria Come is the Big Bob Extra Joirmea on the field. Grazie. Oh, oh, oh yeah. Miya ho ho ho. Miya ho 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 ho. Oh, oh. Miya ho 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 ho. Miya ho ho ho. Oh Oh Oh